Bella, 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 che prova, eleganza questa, la salita di Tienegra, da Slovenia. Siamo in competition, percorso netto, pulito, sempre, Yannick, brava, 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 Yannick. Restiamo con gli occhi su Anacca, Anacca e Roven, l'ultima trete in gara per la categoria Junior, al femminile, questo bel parallelo tra l'A e l'Union, i più grandi. Anacca e Roven, che come abbiamo visto da quanto detto, si gioca ormai da diversi anni in queste categorie, sempre con Jessica, Jessica Pee e Anacca e Roven. Sono lì, avanti una, avanti l'altra, poi ritorna avanti una e ci riprova l'altra. Stavola, allì. Stavola, allì. E adesso via, noi la conosciamo, proviamo a andare avanti di più. Come on, Anacca. Anacca e Roven. L'ha fatto. mobile è la finale finale del Category Junior. E' la finale prima, l'unione sia la final. Junior Femeyber Junior Femeyber Junior Femeyber Junior Femeyber Grazie a tutti.